bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo specialissimo video sono sempre xyuder e ragazzi siamo in live ma abbiamo appena trovato la nuova granata appiccicosa andiamo a vedercela bene andiamo a vedercela bene che porca miseria porca voglio vedere come spara come colpisce potrei essere il primo italiano a mettere il gameplay sopra fa niente se non colpiamo nessun nemico la voglio proprio vedere ragazzi allora andiamo innanzitutto a dropparli in un posto un po più tranquillo e un po più chiaro la droppiamo qua ce l'andiamo a vedere con calma qua 3 3 me ne ha date 3 ragazzi guardala qua peta è che ve la voglio far vedere che so che avete la mia faccia da pirla davanti guardala qua guardala qua sturra cessi davanti ragazzi incastrato la diamo proprio provare subito subito cioè se io da qua punto qua guardalo qua ma grande 200 di danno alla struttura quanto va lontano quanto va in aria lanciala in aria ma stai male guardala qua porca vacca che male che fa che male che male beh ragazzi questo è solo un video informativo per farvi vedere il gameplay della nuova granata spero che vi sia piaciuto e vi aspetto qua in live ciao 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 ciao